C'è nel mondo un'operapia, ma senza la magia che perirà sotto questo pericoloso dittatore dello spazio che una volta era solo un arabesco di un re, ma tanto fece e tanto disse e il re sempre lo metteva sotto come lo tartassava costantemente. Ma poi la gente lo incoronò, ma lui non volle rifiutare la corona per darla al Dio immenso. Se la tenne quindi e poi, tutti passarono per lui e col tempo diventò un mannaro sempre più e tutti i demoni stavano sotto di lui. Ritornerai in asse, ma solo se la gente saprà metterti classe e solo se tu davvero perirai dentro a questo scheletro che è l'onestà intellettuale andata al mal. Se poi tu non vorrai capirlo che c'è giustizia sociale, allora no, non riuscirai.